Vi rendiamo a conoscenza, come ormai siamo soliti fare, delle segnalazioni che giungono alla nostra redazione da parte dell'Ancadic, che da anni ormai si fa portavoce dei cittadini al fine di trovare soluzioni che tutelino la salute pubblica. Oggi parliamo della contrada Pilati di Melito Portosalvo, i cui abitanti sono fortemente preoccupati, visto anche l'emergenza pandemica in corso, della perdita di liquami di natura fognaria e che si disperdono dalla vetusta e corrosa condotta fognaria, in più parti bucata. Problematica che persiste a dire il vero già dalla scorsa estate, nonostante ripetuti solleciti, evidenziando che lo scarico ricade nel centro abitato di Pilati, a pochi metri da una pizzeria. Risulta evidente che il processo di corrosione, che da tempo si è innescato sulla condotta fognaria, ha determinato la formazione di notevoli fori lungo la stessa e l'ampliamento di quelli già preesistenti. Ciò sta a significare liquami non depurati, in parte volatizzati dal vento e che si riversano sul sottostante suolo fluviale. Il tutto a lungo andare a genera stagnazione lungo l'alveo fluviale e sul tratto di spiaggia, arrecando grossi disagi alla cittadinanza, oltre che all'ambiente e alla salute dell'uomo. Malgrado l'interessamento della Prefettura di Reggio Calabria e del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione, non si è giunti ad una risoluzione del problema. Bisogna muoversi sul piano della precauzione e prevenzione, non potendo escludere Chiosalancadic che l'inquinamento potrebbe agevolare la diffusione del coronavirus e che tracce dello stesso si potrebbero trovare nelle acque non potabili.